Il presidente del Baiano, Tony D'Avanzo, ha le idee chiare, una squadra giovane con qualche esperto che possa permettere ai mandamentali di insediarsi tra le grandi. Raggiunta l'intesa, con il difensore Albertini si cerca un altro pezzo da 90 per il reparto arretrato. Si tratta di Terracciano, ex Cicciano, nell'ultima stagione all'Ariano con cui ha raggiunto i play-off. Non è questo però l'unico nome caldo per la squadra granata. Infatti, il patron baianese vorrebbe prendere un rinforzo importante anche in mediana, dove sono iniziati i contatti con Sorrentino. Cinque gol nell'ultima stagione tra Serino ed Abelinum, ma il vero sogno nel cassetto, vista anche la partenza di Falco verso Casalnuovo, è rappresentato da capo di lupo. Bomber, che ha realizzato 20 gol nella passata stagione, laureandosi vice capo cannoniere del Girone C. L'attaccante ex Accadia è uno dei pezzi pregiati di questo mercato, una punta che nel corso degli anni è stata in costante crescita, con oltre 80 reti in quattro stagioni.